E' bravo, sì! Oh, e ne abbiamo iniziato tra un altro. Benvenuto, Alex. Com'è che si chiama? Alessandro Valenti. Ma ci facciamo iniziare. Sei grandissimo, Alex. E' sempre uno con gli attributi radioattivi. E quanti ne ha lasciati? Oh, sconeta che sei un pacco di arco! E' un pacco di arco! E' un pacco di arco! E' stato, Alex. Cosa faceva la vita? Il politico. Ma a parte questo pacco di amonismo, eh? Cos'è questo posto? Beh, mi dispiace di esserlo, ma questo posto è l'inferno. Cosa? Oh, ne c'erano di cui aver paura. Io ho... C'è la cara. Cara, Alex. E poi c'è lui che è la... Rafa, è la... E' 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 la risparmiare due lettere di due per noi lo teniamo tutti i Rafa. E poi c'è la... E' il cara. La primogenica degli angeli dei diavoli. Proprio io. Allora, aspettate un momento, eh? Tu sei carino, tu sei Rafa e tu sei... E' il tuo posto. E' proprio vero che le staglie al vivo sono sempre più basse. Questa è mai una cosa? No, no. No, appunto c'è stata la legge sui cioccolatini che ti ho preparato. Eh? Brava. Eh, capisco, capisco. Quindi questo sarebbe l'inferno. E che è quella, sa? Non c'è questo? Ma no, no, ma so benissimo gli esseri buoni, eh? Ti sai, però io ve lo immaginavo un po' di tempo. Le fiamme, i tormenti, le urla... Che pianofa, no? Ragazzi, questo è uno vecchio a scuola. Vuole l'inferno e infezione... Classica! E' così come non c'è quello che potrebbe farmi farmi così. Penteitevi dannati, penteitevi! Oh no! Penteitevi dannati! Penteitevi dannati! Ho visto prendito, vedete, vabbè, vabbè. Ecco bravo! Penteitevi dannatori! Vabbè, 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 vabbè! Non ce l'ho innata quanto io menci in scegna, fate un po' all'interno che vi fate, eh? Adesso, grazie. Ale, non è necessario lasciarti prendere da allo stress. Lascia che ti risollevi lo spirito con un breve sketch. Con che cosa? Ammirate il mio traventimento perfetto! Ma che è questa luce? E' strano, perchè non stai ridendo? L'esecuzione era perfetta! L'elevatorica principale del petto straniante di vedere dei buff applicati di una giornata ragazza piacente! E adesso si aggiungeva le mie altre basket da Patch Live mi piace anche fare le domicili e se magari non mi piace, c'è un'eccellente! Mentre invece la farete mente? Passo! Non c'era bisogno di spiegare tutto! Bene! Allora devo aggiungere un tocco in più! Satana aiutami per favore! Si! Ammirate il mio traventimento perfetto! Chi sei tu? Che mi hai fatto di Laura? Nemmeno il demonio mi riconosce! Non sia il tuo posto! Non sia il tuo posto! Ciao! Grazie a tutti.